La provincia di Salerno consegna i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 15 con risanamento del manto bituminoso in tratti saltuari nella parte ricadente tra il comune di Castellabate e il comune di Pollica per un importo complessivo di 57.946 euro. I lavori ricadenti nei due comuni avranno inizio presumibilmente il 30 agosto. L'intervento è coordinato dalla settore viabilità e trasporti diretto da Domenico Oranesi con il supporto del consigliere provinciale delegato alla viabilità Antonio Rescigno. Apriamo nuovi cantieri, afferma il presidente della provincia strianese, per la messa in sicurezza di tutta la rete viaria ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La provincia, conclude, strianese non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.